ciao a tutti benvenuti in questo nuovo corso sui gessi natalizi in particolare il tag con il paesaggio azzurro lo vedete già montato stiamo parlando di un tag già rivettato già pronto che viene decorato e con carte con paste e colori per ottenere questi effetti molto molto delicati acquerellati pronto per essere regalato come segnaposto per l'albero di natale o semplice segnaposto qui vediamo i particolari che potrete realizzare passo dopo passo seguendo il corso un saluto a tutti grazie grazie